State Evert Negozio Voi sul mio canale YouTube Vidin Fammi controllare che non me lo ricordo Un secondo Eh si Niente trattini Vidin tutto attaccato Staccato Life X Staccato XXX Hai dimenticato una N In mezzo a quelle X Grande grazie Allora Bello Ok Grazie mille Buonanotte Facciamo un saluto Ciao Grigio Ciao 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 Grigio Buonanotte Allora Fortissima Fortissima Uno contro squad Cioè tipo la lotta Quello lì da sumo Sono la cosa sempre da sumo Niente E da lottatore Da wrestler Capito Quello lì ti passa attraverso Cosa da 40 I favoriti secondo me Questo torneo Sono Lui e Mongraal Vabbè poi c'è Tifu e Clock Se giocano insieme Se non giocano insieme Non vincono E poi Bizzol Poi Sì E poi Cheezords Se gioca con Symfony Se non ho Symfony Forte Ma ce ne sono altri Più forti Poi comunque Dipende sempre Da chi si qualifica È sempre lì il discorso Perché Del nord america No 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 Del nord america Ci sono tot posti Dell'europa Ci sono tot posti Dell'asia C'è un posto A settimana Brasile C'è un posto A settimana Capito Però mi sembra strano Perché tipo Io ho visto Che Mongraal Ha dovuto firmare Delle liberatorie Tipo roba così Già per partecipare Non lo so Comunque Cioè penso che Chi ha già Ha avuto risultati Negli altri tornei Tipo schemi Vediamo già il punteggio Secondo me Lega aperta Lega contendenti Siamo nella Divisione numero 4 Dove ci tolgono Come vedete Meno un punto Quindi Sono top 12 Top 3 Top 7 Sì Che moltiplicate per due Sono top 25 Top 15 Top 7 Per non Per non dimenticare La vittoria reale Che Un bel Top 3 Ma ogni kill qua È È oro È un punto Notiamo già Quanto ci impiega A trovare una partita Comunque Adesso ci siamo Un minutino Quando sale di divisione Una kill va fatta comunque Per Per ripagare il biglietto Subito O top 3 O top 12 Lega Ladies and gent Here we go Road to the World Cup Championship It's gonna be a bit Of a lazy stream Unfortunately We're just looking For position Placement We'll try to Put here and there A few kills Maybe If we're lucky Five But Not really As you can see 141 We've stopped In a good way So Each time They're gonna Take out A point That's fair Come si dice Charpamino in inglese Junkie 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 This is gonna be Our landing spot For All the tournament Between that one And this one There's a little house Over here It's a nice spot That one That's pretty cool But anyway We're gonna try to Blast any contendent Over here And after Go ahead Hopefully Let's go Charpamino Charpamino Per la vittoria Ah le cos mi dice Vedici Estrane Nei nemici No Siamo soli No Sento Qualcuno Un team c'è Però È atterrato Alla Sopra Quassù Sì Mi stanno già sparando Ma che cazzo Eh Ha crescito Sono ancora in aria io Anche me Anche me Roba da pazzo Vai baby Bevi Bevi Tu hai deltaplani Io ho una jump Per riftarci E' il deltaplani Ok Fai due materiali Jumpiamoci Riftiamoci subito Che cos'quare vengono a pusharci Guarda qua altri deltaplani Ok Dai andiamo andiamo Dai andiamo andiamo Questi vengono a pusharci Instant Vieni vieni Vai Quartiere Ehm Quartiere Raguna Sì E poi geyser Sì 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 Figa Mi stanno sparando ancora Ale Sono pazzi questi Puttana Evi Ci stanno inseguendo Non ci posso Ma no Ma te C'è gente qua C'è gente qua Pompa viola Ottimo Doppio pistola Per te Io non c'ho Scudi ancora Sono sicuro Adesso Qualcosa di fiola Dovete rifartelo prima Dai non lo sono fatto Ok Un po' di munizio Mi servono scudi Arrivano da noi Incredibile No Si sono buttati in mezzo là Ottimo Uno L'altro Nascosto eh Sono i due che ci inseguivano Vieni che ti do Le doppie pistole Dai Sono buttati in mezzo Venti Gli ho fatto uno Ale Questi qua sono aggressivissimi Io non ho un assalto Però ti posso dare le doppie pistole Ti lascio io l'assalto bianco Tieni Girati 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 Ti lascio sotto dietro Sì sì aspetta Stavo ordinando In ventale Dobbiamo andare via Andiamo via subito Qua si fightano Vieni Ale sotto Non c'ho da tanti materiali Neanch'io Ah uno L'ho hittato 20 Ma io la proverei a fare una kill C'ho la pistola pesante Capito Ah io sono in 4 Eh ma stai fightando Tra di loro Stiamo un attimo qua Tanto ce la facciamo Perché a me costa uno Vai Anche te hai costato uno Certo Andiamo Ma non voglio Non voglio andare No hanno finito Hanno finito Via 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 Vieni Ale Dammi retta Senti che non sparano più Subito qua E poi prendiamo un geyser Mi servono degli scudini Non posso entrare in una fight così C'ho le armi Buone C'ho la pistola silenziata Su white blue No ce l'ho viola Infatti sono felicissimo Questa partita è molto buona Dai eh Non c'ho scudini C'è qua giù Codio che animali quelli Che ti hanno colpito Madonna mia Stai basso Sfiga Secondo te vengono ancora da noi No ma non han giampato da lì Han giampato da parte Scudi niente Ancora no E ancora no Disastro Disastro Allora qui ci stanno Casse no loot Allora questo è importante Dino La nave no loot E dentro la nave ci sono le palle Ci deve essere una sfera Vai a prenderla Sì esatto No non è una sola Di solito ce ne sono due o tre De gemelle viola Ho trovato Codio Dio Ho aperto dieci casse qua Nessuno scudino Roba da pazzo Come trovo uno scudino Trovo pingo Comunque Pianto Eh Ah pensavo a una palla Due palle Ok Scudi Due palle Sì Te l'ho detto Le scenderanno due Lutiamo Facciamo un po' di materiali E poi Mi saranno scudi Assolutamente C'era una cassa All'inizio Lì sopra Fai già un buco Per passare Con le palle C'è già Ok ho trovato un po' di succo Ottimo Non c'è ancora Rassalto Comunque Arriva la safe Hai fatto il buco? Sì sì C'è già Ma quelli che aggressioni ci hanno messo Dove è che è? Dove è che è? L'altra Qua Il buco sta qua Qua c'è un falò O push No No Hanno preso il geyser Sopra di me Prendilo il falò O accendilo No no è quello da accendere Hanno preso il geyser Sopra di me Prendo quei palloncini lì Subito paradisiaco Dai facciamo una rotazione Di quelle Vuoi prendere la drop? No Andiamo Io sono messo bene con le armi Ah ma è un assalto Manca Ma come ti è mancato? No Non ho messo bene con le pade Sono dolce Queste cose qua Sono troppo Velocco Troppo Non mi inizia Non cazzo Volevo prendere Quale metodo Gente 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 Stai a sinistra eh Bravo lì sotto Stai sotto a sinistra Gira a sinistra tutta eh Anche perché non siamo ancora in top 25 Figa E 25 top 12 Dobbiamo arrivare Facciamo uno scudo Tiretelo Facciamo uno scudo Ano me Dove dare Ma quando hai che ho perso l'energia? E 65 Qui mai non sarei più Lo slurft è 65 No 75 E forse perché eri in safe Perché hai preso un po' la safe Ah Oddio quanto toista safe Ci sei? Sto continuando ad andare io Sì eh Senti passiamo largo No aspetta aspetta Mi tiro lo scudone qua Vai Dimmi Andiamo largo dal campo da Dalla pista lui Perché c'è gente qua Ok Ah no c'è gente proprio in fronte me Sì Sei Razio qualcosa Razzi No Va bene non voglio Qua c'è un pompa viola se lo vuoi Vabbè non Eh? Tu ce l'hai? Un pompa viola Sì sì Qua siamo in safe Ok Un attimo faccio due munizioni Io non c'è ancora l'assalto Dico solo questo Nooo ma che scarsi C'è il falò hai detto? No Vitraietta blu qua Mitraietta blu Sì può essere Non ho ancora l'assalto Comunque E' un problema Questo Ehm Dobbiamo andare a vedere qua Guarda quanti siamo ancora in 22 Bravo Non c'è neanche i materiali C'ho zero di pietra Boom ok tre punti Critia ce l'abbiamo fatto Ah non stavo più guardando No triste Chi non sta guardando Critia Ha chiuso già Sì Dove c'è la sfera? La safe La safe La sfera? Dove è? Ah ecco l'è Oh qua salto blu Venite a prendere al volo Sopra le scale qua Eh niente non ce la faccio No no ce la fai ce la fai Prendilo prendilo Via via uguale uguale Lascialo Non puoi star senza salto Mannaggia non ti prendeva la safe È arrivata moving C'è gente con le palle lì su Nel punto più bello Lì c'è anche un falò Infatti me lo sparo Quindi ha smesso di guardarci Critia già? Mi starissi Ah no invece No ho scritto anche il messaggio Mi ha detto che c'è Bella Critia È sempre qua con noi L'Ale già c'era rimasto male Eh diciamo Eh sì Manca una partita Siamo vicini alla safe Vabbè domani non ci gioco Dove ce l'hai la palla? Io le vi dietro Dai Vinti voglio concentrato Sono full di reno Io anche di piede Vieni Palla Ma no tranquillo Ti stai a essere Un troll La cosa dietro di noi La cosa dietro di noi La drop E uno è la Due Alla drop Alla drop Sì 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 Scusa se non te l'ho detto Qua salto blu Dai qua dentro le casette Subito Sì 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 Mi si sta spegnendo la tele C'hai trappoli te? No, la vuoi una jump? C'è gente da noi, non spaccare più La vuoi una jump che ne ho due? Ok, ti lascio una trappola Allora, c'è uno calcola qua Noi siamo ancora in safe, costruisci metallo adesso No, non così però qua Metti una trappola, metti una trappola Metti la trappola L'ho messo, ho messo Adesso se arrivano E' arrivano sì Andiamo via Allora, c'è uno calcola qua Troppa... no, questa no, Dean Adesso ci sono le palle in mezzo Questa non la fare qua Così in caso da qua usciamo, capito? Sono sopra eh? Sì, sono sopra e anche qua Comunque siamo in 15 Guarda quanto è piccolo sto post Sì, sì, sì E' qua eh? 14, dopo un'ora è morto uno Che infatti? Cioè ma come tutto quel bordello lì? Solo uno è morto La safe è da quella parte di là Fai un buco già Apri di là Apri di là Ok, vai Ok, vai Sono esso chiuso fuori dalla safe Non ci credo Vai, Ale Non devo uscire dalla palla Ho cercato la kill Non mi fa scappare Guarda qua Come cazzo si è bugato, Dean Mi stai guardando? Sì Brutto questa azione La palla davanti Sesti! No, scusa Sesti non è male Non mi ha dato i punti Sì ma ogni volta Vedi, sesti E questi sono rimasti in set Capito? Rimaniamo sempre pochissime coppie Tutti da soli Porca troia Eravamo in 12 No No, in quanti Eravamo in 20 In quella safe di là Anche questo è morto Poto soltanto riuscire Guarda 30 secondi Resistere di più 30 secondi Sì, sì, sì Quello là Cioè, porca troia Troppe morti buttate nella safe Il tipo Non ho preso neanche la kill Tu l'hai fatto una kill Io 0 No Vero Eh, ma non abbiamo Cioè, non abbiamo fightato mai Beh, c'era dati punte Continua dati 145 sono io Io sono a 45 Allora mi sa che ero A 41 4 punti Meno 1 40 5 punti Infatti Allora ci sta Eh, sì, ma stiamo facendo sempre 5 Dai, non è male, eh Non è male Non è male No, no, no No, infatti Mi dice Aumento di visione in 30 Dai, Ale, dai No, vedi 30 punti, dai Provinbet Timo watch me live You're gonna give me the view You just have to look What should be Say hello No Ladies and gentlemen A bit low What can I say But let's do this shit Non è vero La cria brava Uh, tanti che si buttano Comunque ci hanno contestato già dall'inizio Ale, cosa ti devo dire Il punto è stato Aggressi Ogni volta che saltavamo col deltaplani Oh, mia, ma quei tipi brutti proprio Sopra la montagna Mi auguro abbiano perso Sì, sì, non ero di sicuro Sono morti lì al Al quartiere Non sono usciti in due No text Nothing Cosa mi dice, Ale? Distributore viola No, no, mille persone Ti dico io, invece Contestatissime Ah, però Sì, sì Torna indietro Torna indietro montagnole Sono le quattro Ho capito Magari facciamo quattro kill Prendi l'arma Io prendo l'arma E arrivo Ok, pompa blu Gente da te Arrivo No, ma preso lui Ma c'ha un micro di energy Ti prego Guardi, c'è il suo socio Che arriva, l'hai visto È un e sopra Un e sopra Peccato È brutto, brutto Ma perché? Abbiamo cambiato un posto di Vota in quattro Doveva andare in quattro Dice Quattro punti C'era ragione Al tipo Quasi l'ho ucciso Ah, almeno eravamo lì Eravamo lì Eravamo insieme a loro Qua sono arrivati prima loro Ho preso le gemelle Il team mi ha aiutato una volta Mi sono girato due volte Quaranta Quarantuno Quarantuno L'ultimo colpo Continuava E invece me l'ha messa lui Devo spammare alle due Allora Mi è sceso un punto No Anche a me il primo punto perso Brutto Rifacciamo Ci vale un secondino La ripresa dell'eroe E adesso Caprioli è indietro Vai Ci siamo Ci siamo In forma smagliante Si gira Schiantata brutta qua Se invece l'ho hitto Mi prendo gli scudini C'ho le gemelle Viola Già Tu arrivi L'altro Ma io ero Ero convinto Che te lo facessi Ti giuro Anch'io Ti devo dire la verità E invece Mi ha fatto un salto Nell'angolino Poi Puttaneva Non so come mai Non l'ha agganciato più Magari Sistema un pochettino L'impostazione Allora Sensibilità Controllo Wireless Comunque devi Secondo me Devi cacciarti Quella barra di lato Nera Dei commenti Eh si C'è ragione Che lì Mi son buttato io Eh ho perso Due punti Io come mai Adesso Adesso Ne facciamo set Per recuperare Bravo Dove sei un po' dietro Dimmi se c'è qualcuno Dietro di me Niente Mi sembrava Bello pulito Per una volta Possiamo anche Provare a cambiare Serve Andare in Nord America Così Laghiamo un po' di più Eh Non c'entra Per il posizionamento Però La gente Muore prima Vabbè Prima Safe Già Vabbè Adesso È una divisione Un po' alta Immagina Diciamo Come sarà In campione Ciao Sica Vuoi la pistola Quella col mirino Anche io Particolari Ho un fucile D'assalto Per te Io ce l'ho Bianco Io ce l'ho Un po' Medi Ah Se mi dici così C'è qua Una mitraglietta Blu Un pompa Verde Non ti servono Arrivo La mitraglietta Magari Non è un po' Bianco Tieni Il pompa Ti occorre No ce l'ho Verde Ottimo Ups Manca il salto Fenditura qua Ottimo Lascio giù Il medic Che tempo Come funzionano Ma scudi Come si è messo Così male Ah io c'ho scudini Tira All'intento C'ho dei puzzolenti Sei Le vuoi? Sì Ho assalto Blu No Mitraglietta Blu Sono ancora in safe Andiamo subito lì A casa Il Bravo Del tetrani Ci vede già? No L'ho visto Sperma un po' 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 Cosa faccio? Lascio giù un medic Che cosa devi prendere? Per i del teplane Ma sì Tanto poi Appena prendiamo Altre pure Lascio giù le puzzolenti doppie pistole mi sa qua, si c'ho 300 di metallo sempre gli scudini mancano, c'erano colpire il pompa? no ce n'ho hai visto le doppie pistole? lì c'ho qualcosa di viola, bello scudone c'è qua scudini qua giù ok qua c'è uno scudone veniti a dare gli scudini giù non ti dai per lui scudone ah ti prendi o te e di sotto eh riesci a portare gli scudini in te eh vado vado mangiarmi due funghette no non è la realtà no non è adesso, magari dopo si vinciamo ti prendi i funghetti ahahah che sono quasi fuori mi starei qua non c'è neanche un funghetto ma la controllatina la controllatina alle palle noi gliela diamo no? guarda hanno già costruito il quartiere niente 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 non conviene alle palle a quest'ora non c'è no ma che ne sai è partito da qua l'autobus in realtà quindi è possibile full di metallo mi manca solo un po' di pietro non mi piace questa rotazione si dai aspettiamo 30 secondi vedi che la safe si chiude qua e siamo fuori safe andiamo io c'ho la sferpa si c'è gente torna indietro sei te? si bravo controlliamo il quartiere poi ritorniamo su guarda che l'anoma penso proprio che quelli del quartiere sono quelli da sopra hanno preso la fune via sono saliti lì esatto ma a me servono un po' di ammo ah ma è uno scudone qua c'è un H allora questo posto 2000M scudone niente sto cercando prendi quella cassa di giù quale? ah si c'è tipo davano dei doppi pistoli ci sono a viola 25 secondi per la safe 15 in realtà scudone niente niente nada prima di vedere quale grotta entriamo da qua dovrebbe essere il punto no niente a scudone trovato del tablano trovato scudone? si uno vabbè ottimo ottimo sei impazzito scudone anche da ah quello no quello no quello si provo a vedere sotto cosa c'è ful niente una cassa una cassa un altro scudone lo puoi portare? dobbiamo lasciar giù il salto il tablano no 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 basta nemico nemico dai un altro nemico qua safe 30 secondi quelli avanti arrivano arrivano con la palla proprio qua sotto eccolo due con la palla mi jumpo Ale Ale vieni qua ho rotto la palla aspetta 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 non ha senso aspetta non sono forse ah c'è uno sotto da te porca troia riesci a venire con l'altro arrivo vai usala 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 bravo sono venuti anche loro allora ci prendiamo questo è un male guarda la mia vita ho visto che vuol dire che vuol dire che mi devi aiutare si si adesso costruisco qua eh ok cazzo mi hai costruito sopra Ale sali sali no no sali ok 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 ti ho aiutato va bene si si arrivano se riusciamo vai qualche colpettino ok ok attenta sud ovest c'è gente sopra la montagna ottimo io dovevo prendere quell'albero lì mi servono i materiali quindi ho usato 60 materiali per prenderne 40 va bene buono mi piace ottimo il tipo lì comunque se tu tenevi occupato l'amico me l'ho fatto secondo me stiamo avendo troppa soggettione non stiamo pushando vuoi pushare un po' di più ma io lo va bene non fa bene secondo me adesso possiamo però tre punti li abbiamo fatti capito adesso no 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 ma io dico una volta che arriviamo in top 10 top 7 quello che è capito proviamo a fare due kill no io in rotazione le faccio male in rotazione sono i migliori capito ci sono un materiale io non ho legno non ho più legno io sono io sono abbastanza bene con i materiali c'ho mille e due no io ho quasi mille c'è gente allora là sopra c'era adesso non vedo più movimenti del teplani ce l'abbiamo quello lì è il posto dove andare porto andiamo da sopra non lo so sai 17 verano tutelare l'unica montagna è safe eh sì sono là aspetta famiglia di entrare famiglia di terra è arrivato non lo so dobbiamo spostarci allora l'altro cos'è di qua cos'è qua 43 io ho fatto uno e mentre gli faccio un 43 uno l'altro mi ha sparato quello è da sud è da sud mi ha sparato andiamo a destra 7 secondi vai destra quindi si si seguimi col z plano come ha fatto a prendermi ci abbiamo sopra eh sì mi sta sparando continuo a venire in safe ok non c'ho più materiale non servono assolutamente ma sono vista io guarda qua che ti ho fatto numero arriva una palla allora c'hai trappole io non cazzo io ho una ma la tengo ancora aspetta abbiamo gente qua sotto in teoria no no sopra anche con le palle 16 anche qua giù oh sì l'ho vista eccolo lì nove io ho fatto due solo no eh no ascoltami abbiamo 30 secondi parte la safe caccia già 5 ora questa cosa ci uccide se non andiamo adesso la safe cosa 5 cosa 5 di vita caccia già la safe ora Tutti da dietro? Ho fatto una storia un po' strana Vieni da qua da me Ci camperiamo qua giù E' lì davanti eh Non ci credo Va safe Dino, non morire in safe In calma, in calma, tranquillo Ci sei eh? Stanno facendo anche tra di loro, ricordo Mi spero Su di me Parti la safe Madonna mia, ma cosa hai fatto? Trottolino amoroso Eh? C'era data la top 7 Ok Ma l'hai visto il trottolino amoroso? E' rimasto a 33 con la shotata che io ho dato io Bellagio, mi hanno fatto esplodere Oh, che punti abbiamo fatto? Gli sta bene, sì Eh, abbiamo fatto ora 140 Uh, comunque male Eh, c'è il top 7, c'è il top 7 Top 7 Top 7 Fatica Mamma mia, signori e signori Qua si fa fatica Wow Mi serve un minuto Devo andare in bagno Ok Lobby Alla battuta Personaggio Vediamo Dai 30 secondi Per ricaricare le energie Vediamo negozio oggetti Spagli bene Allora ci stiamo provando signori e signori Per andarci un piccolo posticino per il mondiale Non per affinare Ma comunque Uno più brutto dell'altro Tutti versò che non mi piaccia Una terza base E ti piacerebbe andare in terza base Se giochi a Fortnite È un po' dura Questo è carino Sfida Eh, giocatore singolo Top 50 Non si potrà cambiare questo Fucile di precisione Sì Mi piacerebbe Allora Divisione Sei qui Su le 10 cent We are Very Very Struggoli Struggoli What can I say Ma comunque stavo pensando No Ma se hosto io Sì Secondo te Ce lo caccio al punto Sì Comunque Perché io sono in divisione 2 No Sì Quindi se lo caccio a me Quando hosti tu Secondo me non lo caccio a te Se hosto io No no Ce lo togo Comunque Te lo faccio così Devi pure passarmi l'oste Ma non riuscivo Un saluto anche mia moglie Diciamolo a tutti gli iscritti Lo canta 75 75 75 175 È lunga qua Quanti punti ti mancano 29 Sicuro a me dai 29 anche te Dai Sì Allora aspetta un secondo Mi do la fabbricazione Vai vai Datti alla fabbricazione Hai capito tutto Ok Uff Un sorsino di Red Bull Qualcodio 29 Attenzione Dean sponsor Red Bull Come ninja I need 29 points To jump in there But it's Every match is difficult Come ti ho detto Dobbiamo farne una Un po' pushando Non troppo pushando Capito Però se c'è il fight Non scappiamo dal fight Capito Tu immaginati che c'hai Un cretino contro Quando stai giocando Sono tanti che in realtà Tutti i fight Confrontatemi Fino adesso Ci sono Trucidatori Il momento migliore Di giocare Domani Tipo alle 3 Di pomeriggio Quando tutti i bambini Tornano da scuola I trucidatori Vuoi provare una partita Negli States Ok ma se la facciamo Negli States Devi stare tu per forza Ah Ma allora Deve fare l'Europa Più che altro Non ho capito Cioè prende I 4 migliori In Europa Ogni settimana No? Sì Ma non ho capito una cosa Cioè se noi tipo Giochiamo negli States Il punteggio Ce lo calcola sempre Per l'Europa Allora Fammi leggere La lega dei campioni Non lo so come funziona C'è un biglietto Questa 4 E in una partita Se ti va bene Se la giochiamo Come la stiamo giocando Adesso Ne fai 5 Buona Ottimale Scherzi Eh ma è fatta apposta È fatta apposta Cioè lì devi fare Le eliminazioni Se no Non sei un campione Quindi si può fare Il piazzamento Fino a lì Ma poi Se bisogna andare Di eliminazioni Lì Vedrai Nel cerchio finale In quanti sono Infatti lì Secondo me È un lanciagranate Spari sulla mischia Qualcuno lo becchi Non ci credo Che sia esploso Che sfiga Ma in più Non mi ha lasciato Di materiali Come è successo È che stavo continuando A fare i muri Per avanzare Verso la 6 E uno ha sparato Davanti al muro Facile Ah in due Uno me l'ha rotto Col barret Parapam E ti dirò Sono Non mi ha speso E non mi ha risposto Nel momento P Gate Non mi ha ascoltato Perché non ho vero Devo Perché non ho visto E non mi hanno Dicei Un minire Un minire R Dai Facciamo 8 punti Spero che non ci caccia il punto Intanto qua Partiamo dalle cose base Oh non ce lo toglie Ma quanto godo se non ce lo toglie O se te lo toglie solo a te Ti sto carriando in una divisione Superiore Mi stai facendo giocare contro Due divisioni su Mi stai facendo giocare Non mi stai carriando Comunque stiamo facendo una media di 15 punti l'ora Più o meno Allora Quindi tu sei la seconda e 75 Poi c'è la terza 125 Poi c'è la quarta 175 Poi c'è la quinta 225 Quindi Tipo Non me l'ha tolto il punto a me A me si 30 punti c'è 30 punti c'è Un team Con noi Un tipo qua Ma lo vedo da solo il tipo E' da solo No Sono due Sì Fagli l'amico Fagli l'amico Attento che c'è il pompa Bella Bella Vieni giù Come on Si parte Si parte Hai visto Hai visto No te l'ho detto Non ci Non ci devono toccare il nostro Cerpano Zero Non si tocca Cerpano E' nostra Eccolo qua Due punti Eddin con lo scudo Così si fa Cazzo Si Ma non mi hai sentito Dire no Mollo Ma come Gli ho fatto l'amico Così ho fatto Perdere le speranze Esatto Esatto Io come sono andato A terra Te l'ho detto Fagli l'amico Che male che vada Abbiamo recuperato il punto Invece Un punticino Ex Two points B Just on the landing Dai Reale Un bel otto punti Partita Yes Siamo in safe Adesso devo trovare cure Uno scar d'oro Davvero Davvero Vamonos Vamonos Apri tutte le casche intanto Faccio materiale Tanto bende Me le faccio Poi se ne parla Ci sono Slinghetti Poi Probabilmente Fuori C'è una jump Pure qua Prendo Intanto Un medikit C'è qua Scusa C'è qua C'è qua Ok mi servono Un botto Un botto Dimmi Ti posso dare il punto Mi servono Mi servono colpi Medi Un pochi 70 Dobbiamo far minizioni 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 Sono quasi full di Legno Qua un assalto Te ne posso dare una ventina Di assalto No 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 Ne ho trovate Ne ho trovate C'è qualche mezzo Di trasporto Un quad C'è qua No Dico Per volare No 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 noi siamo in piena safe Adesso basta andare in giro Materiali Di essere full Che prima Era un po' scarso Un barrettino Ok Ottimo Aspetta Nemici Con la palla Dove? Ma noi andiamo lì Ok Voglio prendere solo i funghetti Ah ma è bravo Prendi il funghetti Andiamo lì sopra Indietro Ma qua hanno lasciato un pompa viola Ma sono pazzi Prendilo Prendilo Arrivano qua da me Girati 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 Vieni indietro Vieni indietro Noi abbiamo neanche preso C'è qua un hoverboard Vieni indietro Vieni indietro Andiamo alla palla Lì A cerparmi Montagnoli Ok No adesso io Posizionarmi Mi spiace Tre punti Sì sì no Fui bene Arriva Sei te? Sono io Sono io Sì sì Sono già per sperarti Andiamo Montagnoli C'è il distruttore Gente a Montagnoli Ho visto uno rompere qualcosa Mi sa Ok Prendiamo dell'alto Sì Sta un po' dopo Montagnoli Cioè Subito dopo Andiamo qua su Sopra la chiesa E provo a spararlo col barriot Sono in due Con la palla Tutti e due Allora aspetta Non ingaggiarli Devo ingaggiare? No 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 Te li ho segnalati Ok 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 E quei tipi vanno lontani Con la palla Eh sì Speriamo Don Zoldick Ha fatto una doppia Il mitraglione Lo prendo Lascio giù la pistola C'hai munizioni piccole? Sì Le usi? No Tieni Tutti quelli che ho Tu hai il cecchino Ti lascio il pompa Ah sì Allora Cecchino Bella E pompa C'è una jump Bye bye Basta No 50 No perché nella parte finale La prossima volta che loro ti lanciano Lanciarazzi Inizio a sparare con i traglioni Guarda la funghetti Ale Oh con tanta perseveranza E tanti funghetti Sono arrivati a 50 di scuola Qua 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 Anche qua funghetto Aspetta che vedo Una cosa viola Che roba è quella Una jump Fermati che la vado a prendere al volo Qua ci sono due funghetti Le mangio io allora Mangia di Mangia di Sì sì No perché rimangono fuori safe Magari Sì 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 Però la jump è importante Certo Ma anch'io ce l'ho una jump Eh abbiamo due Eh sì Non ho per dirti Sediamo S hebben we Lo stiamo qua sotto C'è la pallina sopra Eccoli Eccoli Dov'essi sopra Attenzione Ancora forse userei una jam Anche così non è male Aspetta Adesso non posso fare quella pallina 29 Fali partire questo Allora fammi guardare una Senti io In questa safe entrerei da qua Ok quindi prendiamo questa montagna Qua sopra Ci abbiamo una jump La usiamo appena parte Appena parte la safe E andiamo qua E poi da qua costruiamo Fino a dove hai detto te qua E poi andiamo di là Io ho il deltaplano anche Sì anch'io poi in teoria Qua se ci non ci saranno mai Ma se ci sono le palle siamo a posto Non ci sono le palle Impossibile Il tipo salta così per giocare ma non si muove Sì Quel donzol di Cancora è una bestia Quello ce lo becchiamo in finale fidati Sì Ancora non mi ha dato nessun punto Comunque Né anche a me Certo ho dei due punti Delle kill Senti 15 secondi Metti a piazzarla 5 5 Pensavo Che lontano Che lontano Leggermente di più Però almeno siamo partiti subito Quindi Sì ma infatti te l'ho detto Cioè Conviene partire Costruire 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 adesso Vi han detto Seguiamo il piano Tutto per tutto Puoi costruire Sì qua Una rampettina È male Molto male Vediamo Beh ma da qua ci possiamo buttare Con i deltaplani A volendo Pietro sono full Mi full è di regno Eccoli Andiamo Sei Uff meno male Che non ero Invece sì Ci stanno già pushando No stavo cercando di capire Se c'è la gente là sotto Che era tutto build Ma mi fai cagare In mano Ma va Ma te lo dico Se pushano Guarda Ci sparano Con le barre In un'altra parte Bisogna iniziare A costruire Il ferro Adesso Cioè Colpi assalto Si Tieni Di nuovo Ho già Un cento Qualcosa Eh Il mio 112 No no Allora Tieni No ma vai Sparo molto Di meno Di te Con l'assalto Fido C'hai anche Le doppie pistole Potta la safe Anche di là È la safe Finiamo il geyser Ah stanno andando Alla dro Almeno ho fatto usare Due materiali Io sono partito Scusare Sono dietro di te No no male Mi sono stato rotto Wow malissimo Malissimo Tutto l'altro lato Ma ovunque male Qua Mi hanno sciogli E no eh Boh non mi fate esplodere Porca Proia Eh no Quasi Sì sì C'è scudini? No Ovviamente Figa ma i punti Dove sono? 18 Figa Tutto l'altro Grazie a tutti 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 Sono qua sopra Io sono sotto Uno l'ho preso Bella A me uno va fatto Sei rimasto tu eh La safe Attento alla safe Eh lo so Arriva la safe Vai vai ora Vai ora con il deltaplamo Vai ora con il deltaplamo Wow Top 7 Altri due punti Good 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 Io ho 3 killettino Me le sono sparate Very good A te che ti dice Come schermata di caricamento Lega Quattro Ok Ah questo che bravo che è Come la tiene bene il bordo safe Ma per il 3 ground Da lì Dove Codio Ha fatto una partita Abbiamo fatto 8 punti Abbiamo fatto 8 punti Bella partita Che bravo questo Ma guarda quanti materiali Che c'avevo ancora Bellissimo Da lì poi Dovevo tenerla ai ground Invece ho sbagliato All'atterrare Ah no Lì l'ho fatto giusto Ho guadagnato una killettina Baby I'm smashing it 3 kills But in a very high division And 22 punti Quanti ne mancavano prima? 30 29 Buono 22 Circa 7 punti Per me ne ha dato E a me ne ha dati 8 Perché non me l'ha tolto quello là Impossibile giocare a questo modalità In questo momento Che vuol dire? Il gruppo non è riuscito a connettersi Vediamo un po' Riavviamo un attimino Menti Eh è un caso Proviamo Ma tu sei pronto? Ho messo pronto Ho messo pronto No io ti vedo rosso Riavviamo Eh lo so No riproviamo Per cercare il giornamento Ascolta me Chiudi l'applicazione